Veloci e rapide, quindi è importante che facciate attenzione quando spieghiamo ed è importante ascoltare sempre mentre state lavorando quindi anche se state lavorando tenete aperta la testa e le orecchie in modo da modificare qualcosina ok? ok, sulla mano di andare 10 10 andrà 10 andrà 10 nomi, così non ne ricorderò mai ma lo facciamo lo stesso nomi 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 W nomi 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 Allora iniziamo l'Under-10, stanno io, stanno io, stanno io, stanno io, ok allora l'Under-8 con Giorgio, intano io, stanno 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 io. Qual è una difficoltà dell'esercizio? Le linee di confine, quella gialla di là è quella gialla, dobbiamo stare qua dentro, dobbiamo occuparlo meglio, via! Grazie a tutti! Vai, vai, te li puo' Vai verso la porta Tira adesso, tira! Bravi! Adesso mettiamo una piccola regola invece Allora, passate sempre la patta Altra cosa che non vale Altra cosa che non vale è questa Lascio la palla Eh, no, questo no Allora, qui Allora, qui Iniziamo la palla Iniziamo la palla Via! Come una cosa Veroce, veloce, veloce, veloce Vai, vado, vai, vado Guarda, guarda la palla Poi stop, guardate. Guardate me. Andiamo, andiamo. Vino, 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 vino. No! Vino un po' più avanti, fino alla fine per la linea gialla, vai. Vai, 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 vai. Occhio. 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 Vino un po' più avanti. 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 Guardiamo, guardiamo bene. Guarda, va, arrivo. E cacchiamo. Abbiamo fatto un po' più... I cinesiasi, è sbagliato, è bene. Vino un po' più avanti. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. guardiamo i compagni quindi sappiamo dove andiamo Paolo, Paolo, per fare al quadrato testa alta, testa alta testa alta posto grazie ho stupato meglio? si no bravo Paolo verde veloce, veloce veloce che vicina alla palla allora ragazzi in prima devi stare lontano passando in terra rosso consiglio passami la palla grazie la guida della palla è con la palla vicino al corpo così non è guida della palla perché la palla non ce l'ho io ma me la possono rubare guida della palla è così non me la possono rubare perché se voglio ok quindi per il momento potete utilizzare le parti del piede che volete arancio guardiamo guardiamo lo spazio da occupare andiamo verso gli spazi vuoti porta vediamo cuora guardate in alto ma 46 paura guardami parte guardate Rosso, guardate cosa succede là in fondo, siete uno sopra l'altro, adesso questo è semaforo rosso, questo è semaforo verde, questo è semaforo arancione, quindi io non pallo più. Fermi, 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 la lascio a cagliere, la lascio a cagliere, la lascio a cagliere e la cagliere, la posso cagliare e poi colpisco dopo, ok? Vedeste, il vuole un punto che riprendeste Quanti punti devi fare? Più che puoi. Tenete ferma la palla. Tenete ferma. Via. Niente. Quanti punti devi fare? Bravo. Diego devi rimbalzare la palla. Ora, intanto potete muovervi eh. Se siete lontani e meno tirate la palla tra i vostri compagni. Andiamo in giro, andiamo in giro. Fate scendere la palla. Fate scendere, non andate in alto a colpirla. Fate scendere. Diego, la palla. Bravo. Dai Diego. Tome, più in basso. Tome, più in basso. Tome, più in basso. Tome, più in basso. Stop. Tome. Quanti punti avete? Uno, due. Due. Siamo a scuola. Sto a fare un altro uno. Fida, benzina. La fallenza. E l'altro. Sopera. via 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 guida della palla guida della palla guida della palla bastito di mani palla ferma 1, 2 15-14 però c'è da dire una cosa guida della palla bastito di mani fermo la palla 1, 2, poi torno più nessun segnale adesso noi controlliamo questa finta qua andiamo via guida 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 la fermo faccio la finta e riprendo riprendo a camionale fermo fermo così e poi così destra e sinistra bravo a farlo destra no all'esterno dall'altra parte così Ale guarda faccio dall'interno verso l'esterno dall'interno verso l'esterno andiamo andiamo non scontratevi non scontratevi c'è spazio cercate gli spazi buoni guardiamo sempre i compagni dove sono non andiamo agli addosso ma un pò e poi ho l'altro piede qua e anche questo piede qua e l'interno Riprova, riprova, riprova. No, prima è dall'interno, forzo il piede all'esterno. No, 12 minuti. No, dimmi tu. Sì, intanto benvenuti a questo appuntamento che è un Open Day fondamentalmente che stiamo portando in cielo per la provincia, nelle varie società della provincia, proprio per far passare il messaggio della multisportività. Oggi state venendo soprattutto alle bambini che riguardano il calcio, perché i bambini ovviamente fanno quello, però dobbiamo calarci in una realtà molto sportiva con i bambini così piccoli. Dobbiamo calarci in una realtà che permette ai bambini di potersi sperimentare sì nello sport che preferiscono, che stanno facendo nella loro società, ma anche con l'approccio di tipi multisportivi per fare in modo che la loro crescita sia la più possibilità armoniosa, perché abbiamo bisogno comunque di crescere e di fare attività, di interessi tutte le parti del corpo. Ad esempio, avete visto, no, ci stavano facendo la collezione di palla e intanto comunque con la coordinazione ovovisiva dovevano stare attenti con i segnali che arrivavano dagli istruttori. Anche questo esempio è l'esempio di coordinazione ovovisiva applicata all'esercizio tecnico del calcio, da questo punto di vista. Questo progetto che stiamo portando a giro è molto istantivo, si chiama palla al centro, si gioca. Anche il nome, se volete, è abbastanza significativo, mettiamo al centro ovviamente la palla e il bambino soprattutto, che gioca con la palla, fondamentalmente. E con tanti tipi di palla, proprio perché è un percorso di tipo multisportivo. È un percorso che, come necessite, lo stiamo avanzando per tutte le società che fanno attività del rotto. E lo facciamo grazie agli amici di Playport Fun, che è una società sportiva, giovane, dinamica della nostra provincia, applicata con CSI. Una società sportiva, lo vedete, che è formata da tanti istruttori professionali, professionisti anche nel settore, insegnanti di serve, allenatori qualificati, per cui c'è sicuramente molto preparata. Una società che, se non diamo senza, una società che è specializzata, ad esempio, nel campestivi. Per la provincia, ne fanno davvero tanti, i candidati di campestivi portano anche il messaggio della multisportività, poi anche l'impegno nelle scuole. Sul tema della multisportività e sull'attenzione ai bambini, con CSI, con il Playport Fun, con la Torre di Staglia, appunto, che ci ospita e che ringraziamo, parliamo la stessa lingua, assolutamente sì. E qui siamo andati alla grande, ecco, d'accordo, proprio per mettere, e poter portare avanti in bene questo progetto. Un progetto che sulla sportività sarà costruito durante tutta la società sportiva. Dopo questo Open Day, una volta al mese, in grosso modo, a partire da fine novembre, faremo dei meeting, un po' come quello che stamattina stiamo sperimentando, con tante stazioni gioco, aperte un pochettino a tutte le discipline, e i bambini verranno con le loro società a fare quello che stiamo facendo un po' tutta mattina, quindi giocare, divertendosi e tanto inquadrare e approcciarsi con diverse discipline. Di più, perché poi, insieme in questo percorso, che faremo durante meno, arriremo anche a fare un corso formatico per gli istruttori. Perché gli istruttori che seguono questi bambini, vedete anche in quanti sono davanti oggi gli amici di Prevo, perché per i bambini bisogna lavorare in maniera molto differenziata, e quindi quasi, con i piccoli grattini, e ogni grattro, per l'altro essere servito in maniera importante, così. E quindi sarebbe decisivo anche il fatto di poter fare insieme un corso di formazione con gli istruttori delle varie società. Questa è un'informazione che faremo come oggi, sarà sul campo, gli istruttori verranno sul campo, andremo in giro per la provincia a fare questi momenti durante le mattine del sabato, e intanto faremo formazione con gli istruttori. Per cui c'è anche questo aspetto, e poi in primavera, la primavera inoltrata, non ci faremo mancare anche qualche piccolo torneo con questi ragazzi. Questo è un po' in sintesi il percorso che abbiamo in essere con l'Anderotto, e davvero dobbiamo ringraziare gli amici di Prevo, con Giorgio, che è uno dei nostri, uno dei fondatori del gruppo sportivo, dei punti di riferimento, insieme a Luca e insieme a tutti gli altri amici di questa società sportiva. Vi ringraziamo, sicuramente, Dorotero Missaglia per averci ospitato questa mattina, in questo bel momento di presentazione del percorso. E altri ne faremo, sabato prossimo stendiamo in un'altra società sportiva, proprio a fare una cosa così. Per cui camminiamo insieme con le società e lo facciamo cercando di portare un messaggio di multisportività e grande attenzione alla crescita dei bambini. Ovviamente anche grazie a voi che ci accompagnate, che siamo convinti, siamo sicuri che sarete i primi paladini, i primi sostenitori di questa proposta. Ieri? Sì, siamo molto contenti di essere qua a Missaglia, siamo contenti di vedere da gli bambini che si stanno giocando, si stanno divertendo. La nostra filosofia è tutto quello, è fare divertire i ragazzi e allo stesso tempo dargli un concorso formativo che gli possa servire per la loro crescita sportiva, ma anche a livello del famiglio. La cosa da guardare in questa capacità non è tanto il risultato, il ragionismo, il fatto di diventare un piccolo campione, il fatto che il bambino possa divertire, possa conoscere diverse divinità, conoscere bene il suo corpo, conoscere bene come muoversi. Ed è quella poi che è la base per voi, magari, quando sarà più grande, a fare un'attività, sopportiva, diciamo, un'attività, sempre, nell'attività. E' un'attività che viene da un'idea che vengono al campo per divertirsi, perché l'attività è quella, uno deve venire contento, perché se deve essere una cosa forzata, già sei anni, per quanto tempo, non puoi andare a lavorare. E' anche un problema. Quindi, l'obiettivo nostro è divertirci, far divertire anche i genitori che vengono a vedere i loro bambini, che sono contenti. La cosa bella è questa collaborazione con il CSI e con tutti gli istruttori. Cercheremo di fare gruppo, in modo tale che anche gli istruttori abbiano l'aiuto, l'asidio, e molto volentieri lo scambio di carabine, le persone molto importanti, soprattutto gli educatori e gli istruttori che vengono a vedere i loro bambini. Grazie. Grazie a te Giorgio, grazie a tutti i tuoi, giovani e valutissimi collaboratori per questo progetto che facciamo insieme. E un ringraziamento ancora al CSI Oratore Vissaglia, che ci sta ospitando. C'era il cielo in press, però, è andato, infatti, va bene. Vi lasciamo continuare. Non stiamo vicini, non stiamo vicini, occupiamo il campo, prendiamoci dalla nostra zona. Guarda, non c'è nessuno, Guarda, non c'è nessuno. A posto. Segnato? Vai, vai, vai. Vi prendi, vi prendi. Guarda me. Vai, inizia. Usa il campo, non sta sulla stessa linea. Vai verso l'attacco. Ora che gliela passi, passagli là. Buona, buona, continua, continua. Fuori, fuori, fuori. La palla è là, la palla è là. E... Vai, 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 continua. Vai, vai, continua, vai sulla sossa. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 la palla è questa. La palla è quella. Fuori. Passa. La palla. Punto. Vai, gioca, gioca, gioca. Guarda, guarda. Filippo. Dai. Filippo. Filippo. Filippo, vieni. Filippo, vieni. Oh, fuori, fuori. Dietro, 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 Filippo. Ma che ti chiami tu? Vai verso la porta. Filippo. Domenico, gioca, vieni. Dai. Ancora, buona quella, ancora buona quella. Ancora, buona quella. Ok, stop. Facciamo una giunta. Vai, vai, vai. Quando la palla esce, quando la palla è segnata. Vieni. Vai, vai. Ok, così sfugga in questa riga. Fugga lo scarto. Vai in questa sesta riga. Vai, questa è buona. 2-1, fermi. No, no, io non gioco. Dietro, ho scelta la palla. Fuori dai tuoi compagni. Dietro, vieni. Vuoi stare vicino da me? Dietro, metà, metà. Conti. Guardi. Conti. Dai, dai, ricomincia, ricomincia, ricomincia. Non ti calci, subito. Vai dietro, Ale. Passa la giunta. Giocca. Buona. 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 Dietro la metà campo. Dietro la metà campo. Pronti. Andiamo. Svegliamo. 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 Svegliamo spazio di video lontano da lui. Così devi accedere il passato. Passa la lune. Passa la. Bravissimo. Pronti. Palla buona, questa, questa, questa. Bravo, Ale. Ora è di qua la palla, è di qua. Grazie. Grazie. Se vuoi sono dietro, Ale. Non stai vicino, non stai vicino. Guarda il campo di lato. Girati ora, girati ora e ricevi palla. Cerca, cerca il tuo compagno. Non stai dietro, non puoi ricevere mai palla. Passa, Ale, passa. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Va avanti. Ale. Vieni qua. Vieni qua. Buongiorno. Ritengo che vennerà più importante in questo risultato. E vedo il vostro sorriso, perché sui bisogni è la competenza che ha avuto un buon risultato. Il risultato, grazie anche agli allenatori, volontari, agli sedi e ai progetti di oggi. Quindi lo scopo di oggi è anche per farvi vedere, anche se voi già lo conoscete, il gioco del calcio e nel calcio di ghiaccio poterlo applicare. Quindi diamo una buona continuazione, la paglietta sia nel calcio, nella litta subattiva, ma anche nella scuola. Come è sicuramente molto importante, potete studiare e apprendere. Quindi buona continuazione a tutti. Grazie Giorgio. Allora, io credo che dobbiamo fare l'applausione gigante, innanzitutto dobbiamo farlo ai distruttori che vi hanno accompagnato stamattina, ai vostri allenatori e ai distruttori che ve l'importante. Voi ragazzi, tre, due, uno. Grazie. Grazie, bravissimi. Come si può fare un altro applausione gigante, dobbiamo farlo agli amici della vostra società sportiva, il presidente Giorgio, ai vostri allenatori. Pronti? Tre, due, uno. Bravissimi. E un nuovo applauso che lo facciamo ai vostri genitori. Ma poi mamma che sono rimasti molto contenti a vedere. Tre, due, uno. Via. Bravissimi. Bene. A Giorgio. E intanto grazie agli amici appunto di Missaglia, anche perché sono arrivati anche ai bambini dell'anno. Quindi un applausione speciale anche all'ascolto e poi c'è la mia figlia che si è giunta questa mattina con noi. Bravissimi. E adesso abbiamo un piccolo ricordino. È proprio una cosa semplice, semplice. Grazie! Grazie! Grazie!